Ciao Lillary! Buonasera a tutti! Buonasera! Molto bene, grazie! Allora Francesca, sei felice di aver scelto appunto di restare lì su Playa Imboscadissima? Non sento! Mi senti adesso? Mi senti adesso? Sì, adesso sì! No, volevo sapere se sei convinta della scelta che hai fatto di rimanere appunto su Playa Imboscadissima? Sì, assolutamente sì, sono felicissima, credo che questa opportunità all'inizio, insomma, era un po' titubante perché ero a un passo da tornare a casa, è normale, però questa settimana con Beatrice è volata, questa è davvero la vita da naufraga, è la vita che piace fare a me e grazie anche a lei per avermi, insomma, come dire? Aiutata, diciamo aiutata, 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 sì, sostenuta, a proposito di volo, vedo e sento che c'è una bella Giannetta su quella Playa Imboscada, però mi sembra che sia andata anche molto bene, mi sembra che quest'isola stia assomigliando sempre di più a un paradiso, riso? 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 Grazie.